Poter camminare con Lui e in Dui, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nel Cielo, sia santificato il tuo nome, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Chiediamo a Maria, verso la quale ci mettiamo in cammino, di avere nel cuore sempre la stessa esultanza, quella che ha accolto dall'Angelo, quella che ha portato Elisabetta, così da essere anche noi sempre visitati e visitatori della grazia di Dio. Maria, Madre del Cammino, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon Cammino. Buon Cammino. Buon Cammino. Pronto.